La provincia di Trieste informa che da ieri 2 febbraio è entrata in vigore la norma nazionale che sanziona con un'ammenda da 516 a 2065 euro chi fornisce cibo ai cinghiali e prevede nei casi più gravi l'arresto da 2 a 6 mesi. Il provvedimento contenuto nel collegato ambientale alla legge di stabilità è stato approvato dal Parlamento nel dicembre scorso. La pratica di dare cibo ai cinghiali è una delle cause della presenza di questi animali selvatici nelle aree urbane e nei centri abitati senza contare poi che l'abbondanza di cibo influisce anche in maniera significativa sulle dinamiche di riproduzione della specie provocandone un incremento. Raccomandiamo a quanti non hanno ancora compreso la gravità del loro comportamento commenta Igor Dolench vice presidente della provincia di Trieste e assessore a cessare questa sconsiderata abitudine che non sono solo aumenta l'interferenza e il conflitto tra attività umane e cinghiali ma incrementa i pericoli anche per gli animali stessi che sempre più frequentemente sono cause vittime di incidenti stradali. La polizia ambientale della provincia di Trieste ricorda ad esempio che anche il cibo, pane compreso, destinato alle colonie feline può essere intercettato dai cinghiali, animali che rapidamente imparano a sfruttare ogni opportunità. Si raccomanda pertanto ai gestori delle aree dedicate ai gatti di non lasciare la terra cibo in eccesso. Da anni la polizia ambientale è impegnata in attività di informazione e sensibilizzazione del fenomeno al fine di indicare alla cittadinanza comportamenti adeguati nella convinzione che la corretta conoscenza dell'ecologia ed etologia degli animali con cui condividiamo spazi possa limitare gli incidenti anche gravi che con sempre più frequenza si verificano sul territorio.